Sesto motoraduno della Vendemia organizzato alla Cantina di Cesena. Torna il Motoclub Paolo Tordi abbinando le moto al buon vino. La sesta edizione che facciamo è un bel rapporto con la Cantina e devo dire che abbiamo trovato degli amici altrettanto per loro. Quest'anno siamo riusciti a fare anche la festicciola qui dal sabato sera e direi che ieri sera è stata una cosa in famiglia, però molto simpatica e molto bella. È una tradizione che abbiamo cercato di mantenere negli anni con la collaborazione del Motoclub Paolo Tordi, che dobbiamo ringraziare in maniera particolare per l'impegno e il sacrificio per allestire questo evento. È una giornata dove cerchiamo di mettere assieme la passione per le moto e il vino. Lo facciamo ogni anno in corrispondenza più o meno della Vendemia ed è una giornata conviviale per celebrare la passione delle moto e quella del vino.